Una vita ricca di salute, benessere e bellezza. È possibile averla usando esclusivamente prodotti naturali? La risposta è sì, grazie a l'energia delle piante. Lavoriamo piante officinali per ottenere integratori alimentari, cosmetici ed estratti vegetali. Rispetto alle altre aziende, siamo gli unici a unire un'esperienza trentennale con un'attività costante di ricerca e sviluppo. Dal 1990, infatti, studiamo e utilizziamo le migliori tecnologie estrattive fino ad esserci specializzati in quelle a ultrasuoni e liposomiali, ottenendo tre importanti risultati. Estrazioni a basse temperature, così da non alterare le proprietà delle piante. Maggiore concentrazione dei principi attivi negli estratti rispetto ai classici integratori alimentari. Alta biodisponibilità ed efficacia degli attivi liposomiali. Non solo, creiamo perfette sinergie tra le diverse piante officinali, con il risultato di avere un prodotto dall'efficacia superiore agli altri prodotti sul mercato. L'energia delle piante. La forza guaritrice della natura.